Diletta B su Facebook. 24 giugno 2017. Stefano Rodotta. Anche oggi vedo grandi pericoli. Il fatto che Grillo dica che sarà cancellata la democrazia rappresentativa perché si farà tutto in rete, rischia di dare ragioni a coloro che dicono che la democrazia elettronica è la forma del populismo del terzo millennio. Queste tecnologie vanno utilizzate in altri modi, l'abbiamo visto con la campagna elettorale di Obama e nelle primavere arabe. Poi si scopre che Grillo al nord dice non diamo la cittadinanza agli immigrati, al sud o che la mafia è meglio del ceto politico, allora vediamo che il tessuto di questi movimenti è estremamente pericoloso. E rischia di congiungersi con quello che c'è in giro nell'Europa. A cominciare dal terribile populismo ungherese al quale l'Unione Europea non ha reagito adeguatamente.